Siamo qui al teatro Nadur di Cicciano per la terza edizione L'Amore Conta in memoria di Vincenzo Napoletano. Una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà. Parte dell'incasso sarà infatti devoluto all'ARC. Con me Lucio Pierri. Sempre un piacere ritrovarmi. Un evento molto importante. Quanto conta essere qui stasera? Lo dice il titolo L'Amore Conta. Quando si ha la possibilità di poter dimostrare in qualche modo una forma di amore, di rispetto. Di ricordare chi tanto ha fatto e chi tanto meritava ma in realtà merita perché continua ad essere tra di noi così come era Vincenzo. E soprattutto nel ricordo è importante quello che riesce a fare il nostro amico Davide che ci ha invitato questa sera qui. A dare il nostro contributo e soprattutto per quello che poi lasceremo appunto che è l'incasso che andrà all'ARC. Di offrire il proprio talento a chi ne ha più bisogno? Ma sì, l'importante è che ognuno possa offrire quello che in realtà noi abbiamo avuto la fortuna insomma di essere dotati nel nostro piccolo di un talento naturale che ci ha voluto dare il nostro Signore ed è giusto, giustissimo che non soltanto sia un mezzo di fruizione per gli altri e quindi di lavoro per noi ma deve essere un mezzo per poter arrivare agli altri, per poter lasciare qualcosa. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Come sempre sono particolarmente affezionato ai vostri lettori e vi aspetto prossimamente a teatro con i miei prossimi spettacoli. Grazie ancora. Perfetto, grazie. Ciao. Grazie. E io lo dicevo. Non avevo paura.